Il trattamento TAVI è la sostituzione della valvola ortica per via percutanea, cioè quello che prima si faceva quasi, praticamente solo e esclusivamente con una toracotomia, cioè per rendere il torace, oggi è possibile farlo per via percutanea attraverso degli accessi arteriosi e in alcuni casi attraverso un accesso transapicale quando non si può passare dalle arterie. La valvola ortica consiste nel posizionare una valvola ortica nuova dentro quella vecchia attraverso l'accesso percutaneo femorale, per cui si mette un introduttore, si introduce la valvola e si fa viaggiare fino alla base ortica e la valvola montata su un palloncino si apre all'interno di quella precedente. È una procedura che oggi è indicata anche nei pazienti a medio e basso rischio operatorio e che quindi sta diventando sempre più praticata nei centri che hanno ovviamente una casistica adeguata e una cardiochirurgia di backup a fianco.